Ragazzi, oggi siamo venuti perché il momento è brutto, ma è anche vero che nei momenti brutti escono i beni uomini e noi siamo convinti che voi siete dei beni uomini, ricordatevi, avete sempre la maia in un gelo, ognuno si deve prendere la propria responsabilità, dalla società, dal mister, dai giocatori, noi siamo convinti che ne possiamo uscire da questo punto qua, noi siamo convintissimi, però ci vuole anche di tutti, non vogliamo avere in campo, faccio mosce, per niente, ricordatevi la maglia che è indossata, è bassi l'arama indossata, dovete combattere su ogni pallone, siamo venuti, per farvi capire il nostro stegno, sabato avrete tutto lo stadio con voi, tutto lo stadio con voi, ma dall'altra parte vogliamo il massimo impegno e la grinta, combattete su ogni pallone, il popolo genuano è con voi, il popolo genuano è con voi, voi in questo momento rappresentate il Giro, ok? Grinta ragazzi, grinta, grinta, grinta!